Per avere una desert ci vogliono addirittura tre anni di consumo d'acqua di una persona. Si continua a parlare di difesa del pianeta e non si capisce che la moda è una delle industrie più inquinanti che ci sia. Alla fine poi i vestiti servono certo per fare look, ma principalmente per coprirci, per essere confortevoli all'interno della nostra vita. Questo continuo andare a cercare nuovo, comprare, sia un concetto molto vecchio, molto tossico anche per la nostra persona.